ciao a tutti e benvenuti ancora un'altra volta watching time questa volta parleremo di una tematica interessante senza nessun dubbio volevo toccarla visto anche e diciamo il livello se vogliamo mettere in qualche modo in cui stanno arrivando diciamo questi orologi che vanno a copiare il higher brands o i marchi che comunque conosciamo e damiano per cui in questo caso abbiamo due orologi molto particolari beh sicuramente uno più che l'altro però abbiamo due orologi che rappresentano un modello iconico da una parte dall'altra parte veramente sottovalutato questo l'ho già detto mi sembra un altro video in inglese quando ho fatto la recensione all'epoca del mio er king però è perché perché un modello che comunque non ha mai diciamo decolato in modo importante da rolex è sempre un modello che difficile da trovare però ricordiamo che comunque in questo periodo se volete comprare un explorer un explorer 2 o un milkaus di solito la lista d'attesa non è molto lunga e riuscite magari a prenderne uno dopo quattro cinque mesi se siete conosciuti dal rivenditore o se siete fortunati e per caso capitate nel momento giusto a me mi è capitato un paio di volte ormai c'è disponibile ma non in vetrina ed è alla vendita per cui mi è capitato di trovare un rolex explorer per esempio anche un explorer 2 li ho comprati subito dal momento che erano disponibili per cui dico l'erking non lo vedrete in vetrina sicuramente però allo stesso tempo è uno dei modelli più snovati tanto è che se vociferava tantissimo che quest'anno che ormai è finito il 2020 sarebbe stato probabilmente l'ultimo anno dell'erking è ancora in catalogo a un prezzo di listino quasi 6.100 però è probabile che nei prossimi anni venga tolto dal catalogo e anche perché non ha una popolarità come loro si immaginavano ritornando il tema di questo video che non è quello tanto di parlare dell'erking e se volete possiamo approfondire diversi punti sicuramente di interesse anche il meccanismo che un meccanismo affidabile molto silenzioso perché comunque uno dei meccanismi ancora di vecchia produzione se vogliamo metterli a confronto a quelli del 2020 usciti con i nuovi submariner con i con gli e però è un meccanismo molto silenzioso che mi piace molto il rotore non fa rumore dall'altra parte molto affidabile ma soprattutto alla caratteristica questo orologio di costare di meno del suo fratello il milgauss con cui condividono esattamente la stessa cassa e le stesse caratteristiche antimagnetiche per cui è un milgauss a tutti gli effetti vestito in un altro modo dall'altra parte abbiamo un orologio sicuramente molto particolare e il motivo per cui non ha tecchito molto nel mondo del rolex è il fatto che comunque si presenta come un origini diciamo di oyster classico ma ha un dial un quadrante che si presenta diciamo molto pieno uno per i tre numeri arabici del 39 il 6 e che riprendono un po l'explorer dall'altra parte per avere anche gli altri numeri come 5 10 20 25 35 40 50 55 che in realtà riprendono da quella vettura e ad alta velocità che rolex ha supportato però alcuni ritengono che un orologio troppo carico e che si allontana un po all'origine più classiche diciamo dell'herkin a me piace moltissimo è uno dei miei preferiti in correzione e ritengo sia un orologio veramente veramente particolare e proprio quelle caratteristiche che alcuni non piacciono a me sono quelle che mi fanno impazzire e veramente mi auguro che venga tolto velocemente dal catalogo e magari così la gente comincerà a apprezzarlo di più comunque il tema di questo video è parlare del fatto che uno di questi due orologi innanzitutto non è mio ma non è nemmeno rolex per cui uno di questi due in realtà è una replica come sapete condanno l'acquisto di replica più che altro perché se non te lo puoi permettere ci sono alternative sicuramente di altro valore però che sono totalmente valide allo stesso tempo comprare una replica va comunque a fomentare un mercato nero che può essere in molti casi molto ma molto complesso e facciamo bene a non supportarlo comunque è venuto il mio possesso in prestito questo rolex air king che in realtà è una replica come vedete a prima vista e io lo dico da proprietario di un air king originale in realtà faccio fatica se non faccio attenzione ai dettagli una volta che ho entrambi in mano a capire qual è l'originale qual è la replica mi hanno detto che questa replica poi fra l'altro è anche prodotta in acciaio 904 come quello che viene utilizzato da da rolex per cui non ha nemmeno una differenza da un punto di vista dei materiali in teoria andiamo a vederli meglio da vicino e come vedete per chi ha un occhio esperto troverà che ci sono piccole differenze però scommetto che nessuno di voi in questo momento ha la capacità di dire quale del 2 è veramente quello originale e quello che è una replica le differenze esistono quando ce l'hai a confronto ma cosa succede quando non abbiamo confronto questi orologi e questo ci mette anche a un rischio davanti all'acquisto magari seconda mano non certificato dovete fare molta attenzione alla vendita e compra di orologi soprattutto rolex ma non solo perché ormai ne stiamo vedendo tantissime repliche fatte molto bene perché è molto probabile che siete trofatti se il venditore non è un venditore con una certa reputazione o non vi dà la garanzia del cazzo che questo sia originale per cui fate molta attenzione come potete vedere anche in diversi angolazioni le misure entrambi sia della cassa sia il riflesso del vetro sono abbastanza simili ci sono come ripeto sempre piccolissime differenze io le ho misurati e in alcuni casi adesso non vi do i dettagli ma per esempio la cassa di uno è mezzo millimetro in più che l'altra il cinturino qualche ma nemmeno un millimetro di differenza per cui sono veramente differenze difficilissimi da notare ed ovvio che nella raffinitura ci saranno dettagli che poi fanno capire meglio qual è quello originale e quale quello che replica l'altro come vediamo le chiusure sono molto simili stesse corone e dove ci sono diverse misure e dimensioni e poi vedete il quadrante che in realtà si assomiglia tantissimo quasi quasi una fotocopia se non per piccoli dettagli allora andiamo a vedere un po quali sono questi dettagli da quello che so anche questa non è un r replica costosissima anche perché mi dicono che il mercato delle repliche ha sofferto dello stesso impatto degli originali da un punto di vista di domanda per cui essendo la domanda inferiore si trovano anche con certi sconti e facciamo un check al polso oggi sto con il tudor gmt bellissimo orologio che sicuramente riprende il suo fratello maggiore allora andiamo a vedere bene al dettaglio come potete vedere e sono abbastanza simili e penso che l'unico modo di parlare delle differenze e svelarvi che ecco l'originale qual è quello replica allora se pensavate che il destro era quello originale siete totalmente sbagliati il destro della replica il sinistro che ho nella mia mano sinistra quello vero e come vedete per esempio una delle differenze che salta l'occhio all'immediato avendole uno accanto l'altro che i numeri arabici 396 sono un pello più grandi nel replica idem come vedete i font utilizzati per i numeri arabici e alle ore alle diverse ore dal 5 al 55 sono leggermente ma proprio leggermente più grande ma te lo vedi solo mettendoli a confronto la colorazione utilizzata per esempio nel logo rolex il verde caratteristico di rolex è un punto più chiaro più accentuato sicuramente molto più ben definito e nell'originale e anche la coroncina che se ben si assomiglia tantissimo in forma il colore giallo è molto più accesso molto più accentuato nel vero orologio la lettera air king e superlative cronometer officially certified e come vedete sono abbastanza simili in realtà è difficile differenziarli la corona in entrambi si presenta molto ma molto simile e il cinturino nella casa in realtà quel millimetro che vi dicevo di differenza è impossibile di vederla d'occhio per cui inutile che che ci andiamo ad infugnare in quello e cerchiamo a vedere adesso l'orologio vi faccio vedere in questo caso è un orologio che ha un piccolo difetto per cui molto più facile distinguere l'originale dalla replica ed è il difetto di questa replica e che non è perfetta l'apertura già vedete che c'è un escallo e questo perché non è stata animata in maniera corretta la curva nell'unione comunque il meccanismo funziona perfettamente l'apertura e la chiusura e ha anche il sistema di estensione originale e come l'originale potete vedere ci avete quel mezzo millimetro in più se avete bisogno di allargare la chiusura è fatta bene e c'è anche tutte le scritte classiche del prolex dall'altro si chiude come vedete abbastanza bene sicuro non si riapre per il resto le mani sono sempre avete uguale all'originale la differenza più importante magari che possiamo notare è il rumore del movimento passiamo da un meccanismo che come vi dicevo non fa rumore assolutamente ad una non dico una maracca perché non si sente non è fortissimo però si sente tanto e questo sicuramente il primo indizio per capire che è un replica ed ovvio se acquistate online non è sicuramente uno dei parametri a tenere in confronto ma in realtà nemmeno quegli altri che vi ho detto perché quelle sono differenze che vedete solo a confronto il lume utilizzato lumi 9 utilizzato è esattamente uguale è leggermente meno forte dura meno nel tempo ma la colorazione è esatta e hanno azzeccato anche sul colore che quel blu caratteristico del rolex che vediamo nell'ora nell'abbraccio dell'ora dei minuti per il resto non ci sono differenze ma anche la casa è fatta molto bene non l'ho aperto per non andare a rovinare l'orologio fra l'altro non aprirò mai il mio per cui inutile che vado a fare quel confronto ed ovvio che l'originale di là dei piccoli grafico ormai ho fatto e ogni volta mi spezza il cuore l'altra differenza che potete notare è che messi a confronto alle chiusure sicuramente lo spazzola la spazzolatura dell'acciaio del rolex originale è molto più fina e si vede si vede nel video risalta ancora di più è però dal vivo si vede di meno però comunque una spazzolatura molto più di qualità molto più fine invece quella dell'orologio replica e leggermente più grossolana dall'altra parte c'è la differenza nella corona vediamo e seppur la corona è la stessa e la qualità di quella stampata nel originale molto più bella e molto più nitida di quella nel replica si assomigliano parecchio è però poi l'incisura diciamo nella chiusura di rolex e il logo in realtà sono molto simili ci sono poche differenze penso che ormai sono arrivati a un livello altissimo di coppia al momento di fare questi orologi ed ecco qua ragazzi volevo presentarvi sono rimasto veramente sorpreso questo me l'ho concesso ringrazio mio amico che che mi ha dato l'orologio in prestito e sono rimasto veramente sorpreso della capacità ormai di clonazione di questi orologi lo sapevamo ci sono tante è vero che molto più difficile magari clonare un submariner o un gmt con un meccanismo molto più particolare però in questi orologi veramente la differenza è io ho fatto molta difficoltà ed ovvio avendogli uno vero accanto è molto più semplice ma chi non ha uno vero da confrontare diventa molto ma molto più difficile avere una la capacità di differenziarli ma soprattutto dovete fare molta ma molta attenzione fate dei controlli necessari se dovete acquistare un orologio di seconda mano anche perché difficile trovarlo nuovo ed è molto più facile trovarlo di seconda perché ci sono questi in giro che veramente ingannano una volta tanti anni fa ho sempre detto che una delle grandi differenze è un modo facile per me almeno di distinguere il falso dal vero era il tatto gli orologi originale mi hanno sempre dato un feeling diverso quando ci ho avuto in mano e la qualità delle raffiniture che sente con le mani è diversa devo dire che questo è praticamente uguale a differenza non si riesce a sentire se non per il livello di spazzolatura che che ha una sensazione leggermente diversa ma ripeto sono cose che puoi osservare o sentire solo avendo un originale accanto senza di questo è impossibile distinguerlo bene ragazzi spero che vi sia utile questo video e che vi sia stato interessante anche parlare di questa tematica seppur condannabile dobbiamo accettare che una realtà è una lotta continua e fare molta molta attenzione a non cadere nelle sbaglio di comprare per mancanza conoscenza un orologio replica che va a fomentare un mercato nero molto ma molto pericoloso e rischioso che è anche condannato dalla legge bene ragazzi e con questo vi saluto e ci vediamo in un altro video alla prossima